Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Garcini. In A1 in direzione Roma, due chilometri di coda per un incidente al chilometro 307 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fippillic, coda in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci, verso Firenze. Sulla strada regionale 429, variante di Certaldo, divieto di transito per la chiusura in entrambi i sensi di marcia tra i chilometri 12,50 e 17,650 circa nei comuni di San Gimignano, provincia di Siena, e di Gambassi Terme, di Certaldo, nel territorio metropolitano di Firenze. Si ricorda che a Firenze sono iniziati i primi cantieri della linea tramviaria Fortezza San Marco, info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!